E' lui, fuggite! Tutti sono fuggiti via, spaventati. Gotham si arrammolita senza Joker. Batman all'inseguimento! Ci serve aiuto! Mandate rinforzi sui! Sto arrivando, resisti! Mi hanno colpito! Batman ti ha appena salvato! Sto tornando alla base! Destroccato! Sto abbandonati! Non attaccare il nemico, ripeto. Comandanti della milizia sono neutralizzati. Ehi, calmati, non farci troppo pesante. La creatura Pipistrello emette suoni specifici per l'eco-locazione. Se ascolto bene, riuscirò a seguire i suoi movimenti e rintrecciarla. Alfred, attaccherò il posto di blocco della milizia accanto al Mercy Bridge. Molto bene, Sir. Colga ogni chance per liberare le strade. E' abbastanza idiota! Parla più forte, non ti sentiamo! Intrusione fra... 3... 2... Drone in arrivo, Sir. In gran numero temo. Fat mobile a Reichelites! Trone colpito! Ha un trone! No! Drone colpito ancora in posizione! Diamondback ha battuto! Batwell ha liquidato un drone! Ho perso un drone! di... Di Diamondback colpito! Non reggerà altri colpi! Numerose unità disattivate! 90! ilo... Opin Development- La carica della bomba è esposta. Col berricello elettrico potrei causare un'esplosione controllata. Mi domando quale perdita fiaccherà maggiormente la milizia. Se quella bomba o quella lunga schiera di blindati. Continua a incestere e potrai premere il credito proprio qui. Alfred, attaccherò il posto di blocco della milizia accanto al Mercy Bridge. Molto bene, sir. Colga ogni chance per liberare le strade. Ancora nessun segno di strade. Fuori da quell'auto, Batman è una molletta. È ora che si mettono a prova con dei veri soldati. Ma chi ha scelto questi edifici? Sono parecchio bassi come torri di guardia. Mi ha scelti i comandanti. Se vuoi discuterne con lui, non credo proprio. Se il maestro della tattica vuole tenere qui le sue armi, mi va bene. Come l'ha trovato il cavaliere? Sapevo che era in prigione. Il governo non lascia marcire in carcere un uomo con quelle capacità. Per come la vedo io? Ha fatto qualche lavorato sporco per l'ozio Sam. Attenzione! Sì, è qua! 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 È qua! Sì, 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 è qua! Sì! Sì, è qua! Sì! Sì! Sì, è qua!